Giorno 4, partendo da Villeneuve d'Entreuse, si arriva al col della Cayolle, giù a Barcelonette, poi su al col della Bonette, col della Lombard, col fauniera, se ci riusciamo, casa. Quindi niente, è finito il giro. L'ultimo giorno ce lo godiamo, quindi il giro è finito. Stanotte è piovuto, per fortuna stanotte, e adesso per la strada bagnata, andiamo a prendere il giro. Passo della Cayolle, 14 km, e go! Un po' di più. Ma forse è finito... Un po' di più. Oh, wow, wow. Grazie a tutti. 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 Fine fine ormai è veramente finito il nostro giro.